Ma come è giusto che sia ci deve essere non solo l'approvazione dell'antitrust, l'approvazione dell'Unione Europea riguardo alle regole europee che riguardano le compagnie di bandiera. Tranquillizziamo, e lo abbiamo detto in tutti questi mesi, lo diciamo anche qui alla fine del Consiglio dei Ministri, il Governo è stato molto attento a seguire tutte le indicazioni e tutte le previsioni che le regole che l'Unione Europea ha messo e ha dato per quanto riguarda le compagnie di bandiera europee. È evidente che ci sono compagnie di bandiera che reagiscono nel modo con cui reagiscono legittimamente, è chiaro che fino ad oggi hanno avuto mercato libero, se da domani c'è finalmente un Paese e un sistema che ritorna a competere questo fa bene all'Italia ma fa bene all'Europa e fa bene a tutto il mondo. Ma per quanto riguarda le procedure europee non ci sono stati aiuti di Stato e abbiamo rispettato fino in fondo, lo diciamo con molta chiarezza, le regole che prevedono ancora come perché nella nostra strategia il possesso ovviamente italiano ed europeo della maggioranza delle azioni ma non solo il possesso ma anche il controllo. Grazie per la visione! Grazie! 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 Grazie!